Croci su panca a 30 gradi, la guida completa in un minuto. Posiziona lo schienale a 30 gradi e alza la parte davanti della panca in modo che tu non vada a cadere verso il basso. Ora posiziona i manubri sopra le tue cosce e con l'aiuto delle stesse spingi e ti metti in posizione con i manubri sopra il tuo petto e l'assetto sulla panca è scapole ben adese, schiena leggermente inarcata, quindi sollevata dalla panca e piedi ben piantati a terra. Una volta tenuto l'assetto scapolare giusto, puoi scendere verso il basso con le braccia leggermente piegate e spingere tornando indietro. Non tenere le braccia tese, neanche troppo piegate. Il movimento è sempre con le braccia leggermente piegate e l'arrivo fino al petto. Non fermarti troppo prima, quindi troppo alto, ma non scendere neanche troppo, altrimenti ti fai male alle spalle. Il movimento è controllato, butti fuori l'aria quando chiudi, non fai sbattere i manubri e respiri tornando indietro.